Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù diceva alle folle Quando vedete una nuvola salire da Ponente Subito dite arriva la pioggia e così accade E quando soffia lo scirocco dite farà caldo e così accade Ipocriti sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato Lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui Per evitare che ti trascini davanti al giudice E il giudice ti consegna l'esattore dei debiti E costui ti getti in prigione Io ti dico non uscirai di là Finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo Parola del Signore L'onore a te o Cristo Possiamo riferire le cose che abbiamo letto ora adesso A un po' a quel cammino che stiamo facendo Infatti mentre stavo leggendo la prima lettura Pensavo proprio che è importante per noi con umiltà Accettare proprio le cose che il Signore compie Il progetto che Lui ha Dargli un ruolo più grande di noi È realismo Il fatto che tante cose non le capiamo Tante cose non le sappiamo gestire Tante cose non sono come vorremmo Non è così importante come avere fiducia In colui che ha creato il mondo e noi stessi E che ci dà la possibilità di andare avanti Di realizzare un progetto grande Quindi è molto importante per noi Renderci conto Che Dio ha creato la nostra vita Per l'unità Fra l'altro Chiara Lubbi che ci ha fatto In effetti un po' il senso di tutta la spiritualità Che ha vissuto e che ha proposto Il fatto che c'è un destino con lettera maiuscola Che ci precede E poi è davanti a noi Dio ha il desiderio Che l'umanità coltivi Una sua unità Come un padre che sogna la sua famiglia unita Come una madre che sogna Che i suoi figli e la sua famiglia Siano concordi Ecco questa è una cosa che veramente Dio ci ha rivelato In Gesù Cristo ce l'ha detto proprio chiaramente Gesù è morto Siate una cosa sola La sera prima di morire Gesù dice Accettare questa proposta di Dio Significa per noi Capire che la vita ha un senso E non l'abbiamo scelto noi E che se noi per esempio Pegliamo un'altra strada Quella per esempio Di far emergere i nostri Individualistici diritti Ecco il fatto di dire Io voglio questo E io sono disposto A lottare chiunque Pur di fare quello che dico io Sapete queste affermazioni Molto individualiste Molto desiderose Di affermare sugli altri Le nostre cose In effetti vanno direttamente contro Contro il piano di Dio Contro quello che Gesù dice Se c'è il tempo Pure nel Vangelo Anche se sono due letture Sapete Nei giorni feriali La prima lettura Non è stata proposta In sintonia con la seconda lettura Col Vangelo Perché questo avviene Nella domenica in genere O nei tempi forti Avvento Quaresima Natale Pasqua Ma nei giorni feriali Quando siamo vestiti di verde Nei giorni feriali La prima lettura Segue una strada E il Vangelo Segue un'altra strada Un'altra lettura progressiva Però ci sono spesso Delle sintonie Ecco io penso Che sia bello Il fatto che il Signore dice Guarda se c'è Scirocco È inutile che fai Non mi piace Scirocco E ti nervosisci Perché tanto l'accettano stesso C'è Scirocco Ecco Quella è la realtà Se piove Piove E non c'è niente da fare Adattati Cerca di gestire Questa situazione Allora poi Gesù dice Vedi Se tu hai problemi Con una persona Renditi conto Che il fatto che tu ti presenti Davanti a Dio Nemico di quella persona Sappi Che questo è contrario Al piano di Dio O hai torto O hai ragione Ti puoi dispiacere Di una persona Ma è tuo frate È come quando noi Si besticciano due fratelli Tu dici Sì hai ragione Può essere Che aveva un caratteraccio È tinto È stotto Ma è tuo frate Chi ha detto pace Chi ha detto mamma Cioè renditi conto Che non puoi far prevalere I tuoi diritti Le tue idee Le tue cose Che l'altro Le deve accettare Accetta tu invece A realtà C'è sta situazione E se ci fate caso È paradigmatica Cioè Si riferisce anche a quello Che abbiamo detto prima No? Il fatto di dire Se io ho queste caratteristiche E un altro Ho altre caratteristiche Immaginate quanto è diabolica L'invidia Non sai Non sai accettare Quello che hai tu E invidi Quello che ha un altro E non lo potrai mai avere Perché la ve l'auce E non l'hai tu È una vita di tormenti Inutili E diabolici Ma voi sapete Che anche Gesù È stato È stato portato davanti Appilato per invidia Perché siccome Questo rabbì Attirava tanta gente E aveva Tanto seguito I capi Dei religiosi Di Israele Lo invidiavano E quindi Non accettavano Quello che faceva Ecco Vi accorgete Che Far prevalere Le nostre esigenze Non dico solo Le nostre idee Ma anche le nostre esigenze I nostri bisogni Sulla realtà Diventa poi La matrice Di tutti i morti Che ci sono stati Nel secolo scorso Nel secolo scorso Due guerre mondiali Ideologie Milioni di morti Perché? Per per tornare avanti Delle Delle Ideologie Cioè Ideologie sarebbero Visioni Della vita Elaborate da una persona Io mi metto a tavolino E elaboro una visione Della vita E dico Ora tutti Dobbiamo fare Quello che io ho elaborato E questo È come per dire Chi non entra In questo tipo Di visione Della vita È nemico Vi accorgete Che è una follia Eppure Le follie Ci sono Che uno porta avanti Le proprie idee Le proprie esigenze A tutti i livelli A livello individuale Che non siamo Siamo in guerra Dentro di noi Pensate Uno che non accetta La sua vita La sua persona Non accetta Quello che è Non accetta Non lo accetto Non mi accetto Anzi Mi chiesto Accetta e mi accetterei Nel senso Verbo accettare Ecco Ecco Mi darei Mi distruggerei Perché non sono Come vorrei Perché non sono nato Nella situazione In cui avrei voluto nascere Non ho la faccia Che vorrei Che vorrei Non accetto Le persone Che vivono con me Non accetto Gli altri Non accetto Niente Non accetto Dio che c'è scirocco Oggi Che io volevo A Ciamontana Non accetto Non accetto L'altro È un problema Guardate Ci potremmo fare Pure i barzelletti Dalle barzellette Alle tragedie Sapete C'è un filo Che li lega Cose che Farebbero ridere I polli Poi si pigliano Sul serio E fanno piangere Le generazioni E quindi Sapete Essere realistico I piedi per terra È la prima parola Della Bibbia C'è uno Che ha creato La realtà E c'è uno Spirito Che ha legge Sul caos C'è su una realtà Diciamo Che deve essere Ancora Aiutata Che deve essere Gestita Che deve essere Covata Ecco Ma le uova Non le hai fatte tu Dici Ma le uova Di chi sono Di piccione O di guaglia Si covano Poi si vede Ma non lo decidi tu Se su piccione O guaglia È giusto Ecco Vorrei fare solo Una Una preghiera Soprattutto Per questa Vedete Il fatto di Essere poco realisti Si riflette pure In tante Tendenze di moda Il fatto di dover Decidere noi Se uno è mascolo O uno è femmina Che come se Arriviamo appunto All'ideologia Gender Per carità Il rispetto per le persone È sacrosanto Perché ci sono delle problematiche Esistenziali Riguardo Per carità La maturazione Psico Affettiva No Dico adesso Non voglio entrare Perché Il rispetto deve essere Proprio Base di tutto Però Non possiamo arrivare Al livello di dire Lo decido io Dobbiamo vedere La natura E portare avanti Un discorso Che sia conforme Proprio al bene Della natura L'uomo Non ha la pretesa Di fare quello Che vuole Poi vedrete Diciamo Poi vedrete Lo sappiamo Poi Nel capitolo 3 Della Genesi Quando comincia Il peccato Quando i primi uomini Isticati dal demonio Si dissociano Da quello Che proponeva Dio E il demonio Gli dice Fate il contrario Di quello Che dice lui Ecco Questo fare Non accettare Il ruolo di Dio Per noi Per esempio Per noi credenti La prima cosa Che dobbiamo fare È accettare La realtà Sia divina Che creaturale Dio Per come la pensa Ne posso Sapete Quando preghiamo Non è che posso Pretendere che Dio La pensi sempre Come dico io Mettete che io prego E dico Signore Ti presento la mia vita Avrei bisogno così Vorrei questo Mettete che il Signore Dice Guarda non sono Di questo parere Mi permetti Tu che io Penso diversamente E il fatto Che uno dica Signore Se tu la pensi Diversamente Io Mi metto Dalla tua parte Perché tu sei Più intelligente Di me Allora perché sei Dio È giusto Che dite Non è che posso Ma il fatto Che certe volte Non accettiamo Quello che Dio Ha scelto Quello che Dio Ci propone Non accettiamo Una realtà Più grande Di noi Che ci precede E io non sono Il creatore Noi non siamo Il creatore Noi siamo stati Creati Noi siamo Stati Fatti Come dice Un mio professore Un nostro insegnante Importante Noi abbiamo L'ombellico Significa Che siamo stati Nella pancia Di qualcuno Non è che ci siamo Fatti noi Abbiamo L'ombellico E quindi Vuol dire Che qualcuno Ci ha alimentati Attraverso L'ombellico E noi Non ci rendevamo Conto Ma qualcuno Ci ha voluti Ecco Il fatto Di accettare Tutta questa Ragosa Che in principio C'è uno Che ha voluto Una cosa E ha voluto Me E ha voluto Voi E di dire Signore Ti ringrazio Per quello Che hai deciso Tu Ci vuole coraggio Fateci caso Fateci caso Ci vuole coraggio Anzi io direi Stasera Dopo cena Ci facciamo un po' Di adorazione Eucaristica Che ne fa bene Un po' A tutti E come sempre Facciamo una mezz'oretta Di silenzio Prima Perché è bene Fare in silenzio Poi magari Chiederemo al Signore Questa grazia Fammi accettare La realtà Che tu hai creato La vita Che tu hai voluto Le scelte Che tu hai fatto Vi ricordate Quando Gesù dice Ma non ti illudere Neanche tu Puoi decidere Il La tua La tua morte Perché sapete Che il peccato Più grave Questo lo dice Pure il libro Ma questo Si sapeva però Il peccato Più grave Di Giuda Non è l'aver tradito Ma l'esserci Ucciso Perché se Giuda Non avesse fatto Questo secondo Peccato Il Signore Lo avrebbe Redento Sicuro Se Giuda Avesse avuto Il coraggio Di presentarsi Sotto la croce E di dire Signore Io ti ho tradito Sapete che Gesù Che gli avrebbe detto Te l'avevo detto Vedete che tu Dissi Prima Prima che lo facevi Uno di voi Mi tradirà Ecco Per dirla Ironicamente Ti avrebbe detto Io te l'avevo detto Per te Per gli altri È stata una sorpresa Ma per me Lo sapeva Giuda Se sei un postisso Cerca di convertirti Vado in una casa E poi L'orbe santificato Sicuro State tranquilli Non è Fanta Teologia Questa qua Questo veramente Il peccato vero Di 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 Giuda È il fatto Che non ha Ha voluto decidere Lui tante cose Come punirsi Perché si era pentito Vi ricordate che nel Vangelo C'è scritto Si pentì Si disperò E nella disperazione Quando poi Quelli stessi Gli avevano dati i soldi Gli ha rubati Gli ha tornati i soldi Vi ricordate che ironia Che c'è nel Vangelo E quelli stessi Ora ci viene un scrupolo No Non ce li possiamo prendere Perché sono frutto Di tradimento E di sangue Quindi che è ipocrisia Prima ci erano Noi i soldi È un po' come Quando noi vendiamo Le armi Pure l'Italia Ecco Poi diciamo No La guerra è una cosa Terribile Ma noi pure Le vendiamo Tutti Il mondo va avanti Così Siccome fruttano Molto le armi Sapete Ci sono Tante tante cose Quindi Di fatto Un po' Ipocriti Gesù infatti La prima cosa che dice Ipocriti Ma per chi Non vedete bene Qual è la realtà E vi adattate Alla realtà La realtà È che quella persona Dice È una persona Come te E quindi Tu hai il compito Non di sciarriarti Hai il compito Di cercare di mettere Sempre la pace Beati gli operatori Di pace Perché saranno Figli di Dio Concludo Ricordandovi Che questo è uno Dei passi biblici Che fonda Il purgatorio Non ne uscirai Se non Dopo aver pagato Il prezzo Della purificazione Quindi non si parla Di dannazione Si dice Che andrai In un posto Dopo il giudizio In cui Dovrai Pagare Nel senso Non giuridico Così Dovrai Liberarti E dovrai Recuperare Quello che nella vita Non hai potuto fare È uno dei passi biblici Che insieme a Due maccabèi Ecco ci sono Perché qualcuno Tante volte ci chiede Del purgatorio Come se fosse No A parte che poi Ci sono testimonianze Bellissime Di grandi santi Mistici Che hanno parlato Del purgatorio Però è bello Anche il fatto Che Questa vita Prima di entrare Nella vita Dell'amore Se non abbiamo potuto O voluto Imparare qui La verità E la carità Siccome Nel paradiso C'è verità E carità Perché già Sava stare bene E allora Il Signore Prepara i suoi figli Per entrare Nella verità E nella carità Ma è meglio Che facciamo C'è giusto È meglio Che ti fai promuovere A giugno Non ti faranno Remannare a settembre È giusto Perché Ti devi Guastare L'estate Studiare Di fatto Questa vita Dice il Signore Si intelligente Credo che sia bello Per noi Ringraziare il Signore Per quello che ci dà Perché accogliere la vita Come un dono E non criticarla Ecco Accogliere i fratelli Come un dono Per quello che siamo Cioè Se in questo momento Noi che siamo qua sopra Celebranti Al servizio dell'altare Guardando voi L'odiamo il Signore Per voi Per la realtà Che siete voi Noi celebriamo meglio Certo Perché Noi ci compiacciamo Di quello che ci dà Il Signore Del posto Del tempo Dei fratelli Che ci sono E quindi Gustiamo la vita Dal punto di vista Del regalo di Dio Ma se una persona Invece Va a criticare Tutte cose E deve criticare Questo Si trova sempre Da criticare Nella vita E però Non sei in sintonia Con il bene Se l'ho dato Gesù Cristo Marco 1 15 Passando Lungo il mare Allora E diceva Il tempo È compiuto Il regno Di Dio È vicino Convertitevi E credete Al Vangelo Marco 1 15 Va bene Sogni bene Fratello Continuiamo Il discorso Di ieri Perché credo Che sia fondamentale Per noi In estrema sintesi Dicevamo ieri Partendo dai primi versetti Biblici Di questi primi sei giorni Della creazione Che sono Fatti apposta Per soddisfare Il nostro Bisogno di conoscere Il senso della vita E Dicevamo ieri Il genoma Della vita Cioè La struttura Il riferimento fondamentale Della nostra vita Vi ricordo E questo deve Rimanere Impresso Nella nostra mente Che Questi primi capitoli Della Della genesi Della Bibbia Hanno un intento Di tipo Salvifico Esistenziale Cioè Sono Devono rispondere Alla domanda Qual è il senso Della mia vita Come è iniziata La vita Con la coscienza Vi dicevo Che nel seme C'è In sintesi Tutto quello Che l'albero Poi Farà crescere Fruttificherà E addirittura Morirà Quindi A partire Dall'esperienza Pratica Nella Bibbia Si Esercita Questo Tipo Di comunicazione Che Dicevamo ieri È paradigmatica Per noi Cioè Serve Per illuminare La nostra vita Quindi Ogni altro Approccio Ogni altro Approccio Anche scientifico È di tipo Diverso Ecco Noi Non possiamo Accostarci alla Bibbia A modo nostro Dobbiamo Capire Quello che Vuole dire lei Questo Vedete Bisogna mettercelo In testa Perché tante volte Si piglia la Bibbia Mi voglio leggere la Bibbia Si legge la Bibbia Però a modo nostro Ma non è che Esprimerà Uno Addirittura Può capire Il contrario Di quello che dice La Bibbia Quindi Non si può Gestire la Bibbia Come diciamo Noi A modo nostro Sono studi Molto Importanti Che Diciamo Normalmente Una persona Non li può fare A casa Per questo Per questo Richiede Anche Un aiuto Comunitario Qualcuno Che Viva Per questo Per questo Il Signore Chiama le persone A dare la vita Proprio per conoscere Meglio la Bibbia Per poi Divulgarla A dipingere Tutta la vita A disegnare Come Un bambino Come si esprime Un bambino Certe volte Per fare Per scrivere Le favole Per i bambini Bisogna avere Un'alta cultura Perché altrimenti Non si riesce A comunicare A bambino Uno dice Ci scrivi cose E piccirid Ma se voi Vedete I grandi Autori Delle fiabbe Per bambini Sono persone Che hanno Molta filosofia Molta maturità Poi Proprio per questo Perché hanno Una grande cultura Riescono A scrivere Le cose Adatte Per i bambini Ci siamo Non è che uno Si inventa Ecco Come puoi dire Siccome insegno I bambini Uppono fare Tutti No State tranquilli Che non è così Per fare Anche bene Una cosa semplice Bisogna fare Un grande percorso Ecco Per arrivare A capire Che i primi Libri Della Bibbia Sono di Grande Maturità Che ci sono Voluti Mille E più anni Per capire Quelle cose Uno che non lo sa Piglia i primi Pagini della Bibbia E dice Chi stai su cose Elementari Farò un raccontino Così Invece Non è così Vi dicevo Già solo il primo versetto In principio Dio creò Il cielo E la terra E quindi È una base Che tu non puoi Per niente Sottovalutare L'ha creata lui Noi non siamo I creatori Già solo per capire Che noi non creiamo Niente Pensate Quanto ci vuole Per rassegnarsi Che noi Non abbiamo Creato La realtà Noi siamo Noi siamo qui E il nostro Stesso corpo Ci è stato dato Da altri Che noi Siamo qui E la vita Viene da altri Noi la possiamo Gestire la vita Fino a un certo punto Manco tutta Quindi Sapete L'orgoglioso La persona orgogliosa Purtroppo Diciamo anche Ignorante Ma non nel senso Scolastico Perché ci sono persone Che hanno Quell'ente elementare Ma sono maturi E sono persone Anche Che ragionano bene Ne hanno cultura C'è su gente laureata Che è ignorante Perché Diciamo Vive male Quello che sa Però vedete È importante Anche Prendere coscienza Di questo fatto Tante volte Una persona Deve Imparare A dire Il mondo Non l'ho creato io Il caos Che c'è nel mondo È Un dato Questo è il mondo E io Posso Migliorarlo Il mondo A partire Dall'accettazione Di quello che è Se io non l'accetto La mia persona Se non accetto La vita Se non accetto Quel caos Per migliorarlo Non si tratta qua Di accettare una cosa Per lasciarla così Ma io parto Da questo Il mondo Non l'ho fatto io La mia vita Non l'ho fatta io Io ho ricevuto Le cose belle E il caos Messe insieme E così Lo spirito santo Deve Covare Il bene Con lo spirito santo Da questa situazione Nascerà un bene Questa è una cosa Elementarissima Però ci fate caso Voi parlate con un Quattordicenne Con una quindicenne Non si accetta Si guarda E dice Sono brutta Malefatta Valla a convincere A una persona Che è bellina Così Quante volte Quante volte Abbiamo visto Ragazze Che non sono truccate E tu ci dici Ma si chiubeda così Ma no Non ci crede Non ci crede Se deve mettere chili Non so come si chiamano Queste cose Si incafacce Di tante cose Ma ci sono persone Per esempio Che non hanno bisogno Di molto trucco Se uno ha difetti Per carità Ma se una persona È già armonica Ha una sua bellezza naturale Mettere troppo cose In faccia Voi vedete Per esempio Anche lo stesso fatto Di sentire il bisogno Di scrivere nel corpo Tutte queste cose Non è un bel segno Per carità Ognuno è libero Di fare quello che vuole Ma già le braccia pulite Che abbiamo Già hanno una loro bellezza C'è bisogno Che tu mascheri Tutto Tutto così Evidentemente È un bisogno No È un bisogno Di essere diversi Da quello che si è Cioè tu sei convinto Che come sei Non sei accettabile Scusate se parlo così Ma è una mia opinione Poi ognuno è libero Di fare quello che vuole Ma se tu non ti accetti Se tu pensi Che le persone Ti possono accogliere meglio Perché ti mascheri tutto È già un disagio Ma se una persona Dentro è serena E dice Questo sono Questo sono Questo sono Sono questo E parto da questo Per migliorare Vedete Questo dato È fondamentale Molte persone Per tutta la vita Vanno inseguendo I loro desideri E non accettano La loro realtà Tu sei questo Una persona che dice Io so disegnare Non so fare i temi Ma so disegnare E allora disegna Se sei nato artista Fai l'artista Ma se uno Ma se uno che è All'animo artista Tu fa scrivere Ragioneria Per chi L'artista Non campano E un ragioniere Si piglia stipendio Capace che Chi lo si piglia stipendio Ma sarà un infelice Perché nasci Per disegnare Poi per tutta la vita Farà come lobby Mentre c'è Vaglia in fabbrica A testa Lave E disegni E allora Dice il Signore Nel tuo principio Nel tuo DNA C'è già scritto Se sei una quercia O se sei un piro Se nasci Ste piro Devi fare bene Le pere Se sei ciliegio Devi fare bene Le ciliegie Ma nasce dal seme Quindi la prima pagina Della Bibbia ci dice Guarda che qualcuno Ha creato Ecco ieri vi dicevo Qualcuno Ha già preparato Il frigorifero Tu devi cucinare Ma a partire Da chi ducchi Cento frigorifero A Spisa Non la faciste tu Ci siamo su per giù Come idea E' una cosa Grazie E' una cosa importante Questo fatto In principio Dio creò Allora sapete Metterci davanti A uno specchio E dire Io non ho creato niente Questo è un esercizio spirituale Io non ho creato niente Io non ho creato Il bene e il male Nella vita ci sono cose caotiche E' succhista Però in questo caos Lo Spirito Santo Crea il bene E trasforma il male in bene Cosa che noi non sappiamo fare Quindi non aver paura Neanche del caos Perché Dio Trovò nel mondo Il caos Caotico Tutto caotico Ora il Signore A poco a poco Veramente Vuole Che il caos In qualche maniera Noi comprendiamo Che dentro il caos C'è una storia Della salvezza Se voi Durante la novena di Natale C'è un giorno In cui Si legge La genealogia Di Gesù Cioè Tutti Gli ascendenti Di Gesù Ecco Quella è una storia Caotica Gesù Nei Nei Progenitori di Gesù Ci sono Delinquenti Persone perbene Prostitute Bruglione Gente onesta Cioè Gesù Si è inserito In un mondo Dove c'è di tutto Gli antenati Di Gesù Sono pur Delinquenti Umani Lui è Dio Che si fa uomo Ma non è che si sceglie Una dinastia Pulita Si è scelto Una dinastia Normale Noi tutti Nei nostri Antenati Possiamo avere Persone perbene E persone Purtroppo Che ci fanno vergognare O qualcuno Si vergogna di noi Però questa è la realtà Quindi Io Sono convinto Che Questa sapienza Di dire Devo Prima di tutto Accettare La realtà Che cosa è la realtà Qual è la realtà Questa Devo accettare Stufato Sono nato Con queste caratteristiche E li porto avanti E devo andare avanti Con queste caratteristiche Non devo invidiare Nessuno Perché invidiare Qualcuno Significa Che io voglio Uscire Dalle mie caratteristiche Per scimmiottare Qualcuno Di cui non ho Le caratteristiche È giusto Se io Non ne capisco Niente Di matematica Perché mi piace L'italiano Perché sono portato Per l'italiano È inutile Che il sogno Di diventare Einstein Perché non ci riuscirò Mai È giusto Se una persona Nasce comico La va a fare Un comico È inutile Che vuole fare Le tragedie greche Perché va a finire Che invece fai Le tragedie greche Che la gente ride E questo è Perché Perché di fatto È un comico C'è gente Se ci fate caso Non dice niente Ma basta che tu Uri E dice due parole Già ridono tutte E che vuoi fare È un carisma È un carisma Quindi Accettare il dato Di fatto Quindi io vi direi Questo Anche mentre facciamo L'adorazione Il fatto stesso Che noi diciamo A Gesù Mentre c'è qua L'adorazione Signore Io accetto Quello che sono Accetto Il mio genoma Il mio DNA Accetto la mia struttura Le mie caratteristiche Lì accetto Accetto la famiglia Dove sono nato Che non l'abbiamo scelta noi Accetto il periodo In cui sono nato Potevamo nascere Nel tuo 1800 Sapete Più di una persona Mi ha detto Padre Se io fossi nato Nel 1700 Mi sarei trovato benissimo Ma se nasciste Nel XX secolo È nulla che dice Siamo nascendo Nel 1700 Non abbiamo scelto noi Siamo nel tempo In cui Dio Ci ha voluti È giusto che dico Su cose che tu dici Ma su così La palistiana Così evidenti E dice Ma proprio perché Su evidenti Noi non ci riflettiamo E allora La Bibbia ci dice Vuoi cominciare Comincia con l'accettare Che Dio ha creato E tu ti sei trovato Stai tranquillo Che questo caos In cui ti sei trovato È covato Dallo Dallo Spirito Santo Perché lo Spirito Aleggiava sul caos Quindi non aleggiava Sul paradiso O non solo sul paradiso Aleggiava sul caos Perché? Perché Dio voleva Far fecondare il caos Su due versette sole Se mi permettete Vado avanti Però ieri Mi sono dimenticato Di spiegare Perché è tra le prime 52 pagine Il discernimento Il discernimento Tante volte La gente pensa Dice l'autore Il discernimento Lo trovate A pagina Me lo sono segnato 28 Ma ieri mi è sfuggito Perché sapete Quando uno è qua Certo volte emotivamente Qualche cosa sfugge Però poi Rivedendo Allora A pagina 28 Voi trovate Una bella definizione Del discernimento Il discernimento Certe volte Sembra alle persone Di dire Che cosa devo Fare domani Oppure Certo volte ci dicono Padre Preghi Faccio un discernimento Me i figli Usavano scrivere In lettera O in matematica Ma che discernimento E hai chiesto E come quando ero A Napoli La gente mi diceva Padre Lei che è un frate Mi dica tre numeri Mi dia tre numeri Ma dico Sono cose che Venamente fanno Non è questo Il discernimento Per spiegare Il discernimento L'autore In maniera molto acuta Ecco Ascoltatemi bene In maniera molto acuta Dice Il discernimento Deve appoggiarsi Sul nostro stile Sul nostro istinto Per esempio Per un gatto Un felino I felini Sono predatori Allora Per un gatto Che è un felino Il discernimento È vedere Quale preda Deve prendere Un cane Che in genere Tendenzialmente È un segugio È fiutare Invece Un'altra cosa Proprio perché È un cane Un maialino È diverso Ora Per fare un discernimento Noi dobbiamo seguire Quello che è tipico Dell'essere umano Qual è La carità Se io coltivassi La carità Come un felino Coltiva La predatorietà Poi quando mi troverò Il divertimento Viene dopo la carità Cioè se io mi voglio divertire Senza prima imparare la carità Arrivo alla disperazione Ci siamo? Riesco a farvi A comunicare? Allora Noi siamo stati creati Per amore Il divertimento Viene come frutto Dell'amore Se io prima Non imparo ad amare Io anche se ho in testa Il desiderio di divertirmi Mi andrò a divertire Ma tornerò Svuotato Dico va bene È come per dire Il sabato del villaggio È a domenica Su Gnociste O giorno prima di Natale Sono più Allegro Doi pomeriggi di Natale Perché? Perché avevo delle aspettative Che non si sono Realizzate Allora ci dice la Bibbia Per il discernimento Tu devi coltivare La sapienza Il bene Ogni giorno Per esempio Devi vivere d'amore Per amore Fai una cosa E la fai per amore Poi un'altra cosa Dici Ma la faccio per amore O la faccio per interesse Per esempio Quando preghiamo E diciamo Signore Io prego Per un interesse egoista O per realizzare Il bene vero Per me e per te Perché se ho un interesse egoista Io con Dio Che è amore Non mi trovo È giusto Se io sto parlando Con Dio Che è amore Io Per poter collaborare Con Dio Mi devo sintonizzare Sull'amore Ma se sono egoista È contrario Quindi se io prego Quindi se io prego E faccio una novena Per un fatto Egoista Senza volerlo Poi io sto preparando La mia delusione Perché un signore Non mi può dare Una cosa egoista È giusto Se io per esempio Mettete che fossi un delinquente E ho fatto una rapina Mi trovo in galera E dico Signore Fammi nascere da qua Pace Pio Fammi grazie Di nascere da galera Il signore mi dice Gioia Ma anche se io Ti faccio nascere da galera Così Siccome hai la testa Del delinquente ancora Tu fai più danno Per te e per gli altri Non ti posso accontentare Ma se io dico Signore Mi trovo qui Perché sono un delinquente Canci mia testa E poi Se vuoi Fammi nascere da qua Non ha più senso Perché io sto parlando Con una persona onesta Che è Dio Ci siamo Ma devo riconoscere Conoscere la verità Ma se io invece Mi illudo sulla verità E chiedo una cosa Che non è Conforme all'amore Ma è conforme Ai miei interessi Vedete che spesso Noi mettiamo i nostri interessi In mezzo tra noi e Dio Certe volte Noi i nostri interessi Facciamo E volevamo che Dio Ci accontenti Ma il Signore Quando è venuto Su questo mondo Non ha cercato I suoi interessi Vi ricordate che disse Gesù Io sono venuto Per servire Non per essere servito Per dare la vita Chi vede me Vede il Padre Per cui Se tu dici Pace nostro E hai un interesse Si Il Signore Magari tante volte Se sei all'inizio Ti può accontentare Proprio all'inizio Sapete Perché uno Quando inizia Magari il Signore Dice Vabbè Questo si convertivo Ora Lo accontentiamo Per se no Crolla Ma dopo Gli inizi Appena comincia A maturare Il Signore Non lo accontenta più Perché tu Ha un piccirillo A tre anni L'accontente Ma quando cominci A fare otto anni Deci anni Deci anni L'accontentare sempre A un certo punto Ci dice Figlio mio Tu ora Devi cambiare Ci siamo Questa si chiama Analogia Cioè Fare una similitudine Tra quello che è Dio E quella La vita nostra Per questo vi dicevo Un linguaggio Analogico Cioè È un linguaggio Simile Io parlo Del bambino Anzi Parlo di Dio Per capire Come si deve comportare Un padre Sulla terra Perché il primo padre È Dio Ecco Sono cosette Che nella Bibbia Sapete Vengono narrate E quindi Devo stare attento Il discernimento Quindi Si fa Come uno stile Di fondo Se per esempio Io mi abituassi A non coltivare I miei interessi Mai Mai Stai tranquillo Che nel giro Di un paio D'anni Capirò Se una amicizia È buona O è sbagliata Perché mi sono Abituato A non fare i cose Secondo il mio interesse Ma se io Invece fossi Una persona Molto legata Ai miei piaceri Ai miei Alla mia soddisfazione Appena incontro Una persona Che mi soddisfa Mi illudo Che è un amico O un'amica Perché? Perché il mio stile Di fondo È di soddisfazione Non è di vera amicizia Quindi vedete Noi In fondo A secondo di quale animale Siamo Facciamo delle scelte Se io piglio Asciata Dei gatto Diventerò Un predatore Se piglio La strada Di un cane E coltivo Il fiuto Diventerò Un segugio Se piglio Asciata Di una iena E mi comporto Come una iena Poi Mangerò I cadaveri Ci siamo Come esempio Cioè Il discernimento Lo facciamo A secondo Di quello Che siamo Se una persona Per esempio Ha il problema Che è attaccato Ai soldi Giustamente Tutte le scelte Che farà E per guadagnare Il denaro C'è gente Che è talmente Attaccata ai soldi Che la notte Pur se sogna O porco Si insonna Ganna Cioè la notte Per chi è che Sono attaccati Ai soldi Sognano Come hanno a fregare All'auce Per fare soldi Se una persona È pigra E non va Contro la sua pigrizia Il suo istinto È Ciavagliare Di meno Col maggiore Frutto Ma va a ciavagliare Di meno Per chi è pigro Ci siamo Se una persona Ama il potere E coltiva il potere Il suo istinto È chi Dove fare scelte Per comandare Quindi Il discernimento Si deve fare A partire Da quello che sei E da quello che coltivi Se tu coltivi L'onestà Stai tranquillo Quando troverai Un portafogli Per strada Pieno di soldi Se coltivi l'onestà Non ti Non ti verrà più Da dire Mi pigli i sordi O non mi piglio Perché se tu Hai coltivato L'onestà Tu dici Voglio aprire Il suo portafoglio Per sapere Di chi è E portarglielo Perché io Se mi pigliessi I sordi Non dormirei Stanotte Ma se uno È disonesto Appena trova Un portafoglio Dice a me Non mi interessa Cuperdio Non lo vedo manco Se c'è una carta D'identità Mi pigli i sordi Perché c'ho I sordi Scusate se parlo così Quindi il discernimento Si fa a secondo Di quello che coltiviamo Ci siamo? Se una persona Coltiva le paure Quando deve fare una scelta La farà Secondo le paure Se una persona È orgogliosa Se una persona È vanitosa Se una persona È superba Le scelte Le scelte Le fareà Secondo la sua Superbia Segna De Villo Segna Menillo Perché certe volte Noi vorremmo fare Scelte Bellissime Con un cuore Egoista Come fai Scelte bellissime Con un cuore egoista Può sognare Ma di fatto Poi sarai egoista Ci siamo La realtà è questa La realtà è questa